Buongiorno a tutti amici del canale YouTube Bottega di Platone. Oggi ci occuperemo di tracciare una piccola archeobiografia delle macchine umanoidi, quelli che solitamente vengono chiamati robot, ma in realtà si tratta di qualcosa di più di robot. Al limite bisognerebbe chiamarli appunto robot umanoidi. Sarà una cosa breve, sintetica, che ci permetterà di ripercorrere la storia di queste macchine umanoidi dalla loro prima apparizione fino, in grosso modo, ad oggi. Cominciamo dicendo che la macchina, intesa come mezzo per trasformare la materia e per produrre dei beni e dei servizi, ha accompagnato l'uomo, forse addirittura già gli ominidi, fin dalla loro apparizione sulla Terra. Tuttavia, possiamo dire in un certo senso che più l'uomo ha imparato a costruire e usare le macchine, più queste sono diventate autonome, un po' come se fossero dotate di una vita indipendente. La macchina, col tempo, è diventata un operatore ingegnoso, sempre più capace di scegliere e di decidere. Perché? Perché l'uomo ha cercato di infondere alla macchina la sua stessa intelligenza e persino, se così si può dire, un pezzo della propria anima. Questo ha comportato e comporta grandi rischi, come è facile immaginare, perché l'essere umano, come sappiamo molto bene, è capace di fare cose grandi. Il ponte San Giorgio di Genova ha messo su in pochi mesi, ma è capace anche di provocare dei grandi disastri e delle sofferenze, così come evocate da questa terribile immagine. Questa breve premessa, in un certo senso, ci porta al cuore stesso della storia che vogliamo riassumere, insomma, come sono nate e come si sono sviluppate fino ad oggi le macchine umanoidi, cioè i robot intelligenti e antropomorfi. Per essere tali non si deve trattare di macchine rigide, come sono le macchine che rispondono sempre in modo identico allo stesso stimolo, questo è il tipico robot rigido. Possiamo dire che i primi esempi di macchine con fattezze e comportamenti apparentemente umani, qui stiamo vedendo il cavaliere meccanico di Leonardo da Vinci, furono chiamati già da subito automi e alla metà del XVI secolo che circolavano già in Europa per la gioia dei curiosi e delle corti europee. Cartesio, che ne vide uno all'opera, ne restò letteralmente stregato. Questo robot humanoide è chiamato per l'appunto la figlia di Descartes. A metà del Settecento il francese Pierre Jacques Hedraud costruì un piccolo prodigio della tecnica, che cos'era? Era una specie di bambolotto meccanico, alto una settantina di centimetri, che era capace di scrivere, lo scrivano lo chiamavano, era capace di scrivere su un foglio a mano libera, con una piuma d'occa, dei testi che erano composti da un massimo di 40 caratteri. Questi testi erano programmabili, scusate, erano programmabili dalla parte posteriore, accuratamente nascosta, del robot umanoide. E la macchina li scriveva, questo è ancora interessante, seguendo con la penna, i movimenti della penna con gli occhi, quindi ancora più impressionante per chi lo vedeva. Questi robot umanoidi esistono ancora oggi e li si può ammirare in diversi musei europei. Tuttavia, per arrivare a macchine dotate delle funzioni essenziali del riflesso condizionato, cioè per arrivare a macchine capaci di imparare per tentativi ed errori, bisognerà aspettare il Novecento, in particolare il 1928. In quell'anno, lo psicologo comportamentista americano Clark Hall, riflettendo sul modo in cui gli animali imparano a compiere specifiche operazioni, concepì una macchina in grado di simulare le caratteristiche dell'apprendimento per riflesso condizionato, cioè per tentativi ed errori. Sarebbe stato un dispositivo inorganico, però diverso dalle macchine tradizionali, perché avrebbe avuto la capacità di modificare automaticamente la propria organizzazione interna e manifestare quindi un comportamento variato, cioè una macchina capace di apprendere in definitiva. Una ventina d'anni più tardi, queste intuizioni di Clark Hall furono sviluppate e portate a compiemento dal grande fisico e informatico Claude Shannon, che stiamo vedendo in questo momento, che nel 1952 costruì un geniale topo robot, dotato di una forma basica di intelligenza artificiale. Questo topo robot, muovendosi per tentativi ed errori, era capace di trovare l'uscita di un labirinto, qui stiamo vedendo Shannon con il suo topo dentro il labirinto, anche quando questo labirinto veniva modificato a piacimento dallo scienziato. Pochi anni dopo il successo del topo robot di Shannon, prese ufficialmente avvio il progetto per la creazione di un'intelligenza artificiale complessa. Siamo nell'estate del 1956 a Darmouth. L'obiettivo degli scienziati partecipanti è quello di simulare l'intelligenza del cervello umano realizzando una macchina in grado di apprendere e pensare in modo relativamente flessibile. In quegli anni l'idea base degli sperimentatori era che l'intelligenza dell'uomo è in definitiva paragonabile a un software, cioè a un insieme di regole algoritmiche che può essere applicato a degli hardware molto diversi tra di loro. Ovviamente non mancarono subito i critici di tale programma. Il filosofo Hubert Dreyfus, ad esempio, nel 1964, affermò che gli scienziati che lavoravano alla creazione dell'intelligenza artificiale erano un po' come gli alchimisti del medioevo che volevano trasformare il vile metallo in oro. Nonostante questa e altre forti opposizioni, tuttavia il progetto di costruzione di un'intelligenza artificiale, qui vediamo alcuni dei protagonisti di questo progetto, ed il robot umanoidi fu portato avanti con grande successo. Il matematico australiano del MIT Rodney Brooks, per esempio, nel 1995, realizzò il primo robot, il vero e proprio robot umanoide, si chiamava COG, e aveva lo scopo di riprodurre le interazioni degli umani con il mondo esterno. Qui vediamo l'inventore e la sua creatura. Brooks voleva riprodurre queste interazioni artificialmente, in un certo senso unendo le sue conoscenze informatiche con le grandi scoperte di quegli anni nell'ambito della psicologia cognitiva e delle neuroscienze. Di fatto, per costruire il robot COG fu necessario far interagire molti campi disciplinari diversi che fino ad allora avevano collaborato a dire la verità molto poco. Questa interazione multidisciplinare oggi è diventata strettissima ed è stata ovviamente favorita dal fatto che con l'avvento di internet scambiamo informazioni in tempo reale anche a migliaia di chilometri di distanza e quindi possiamo recuperare dati di migliaia di archivi elettronici o centinaia di migliaia di archivi elettronici e condividere dei progetti e degli studi tramite le reti telematiche. Più di 30 anni fa Marvin Minsky, uno dei padri dell'intelligenza artificiale che qui vediamo, fece la seguente profezia. I nostri robot potranno migliorare davvero solo quando avremo scoperto il modo per renderli simili a dei bambini. E possiamo dire che all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova hanno preso molto sul serio questa profezia di Minsky e dopo sei anni di lavoro intensissimo e multidisciplinare hanno creato iCub, un robot umanoide che è stato presentato al Festival della Scienza di Genova nel 2009. Qui vediamo questa fantastica creatura con alcuni dei suoi creatori. iCub ha le fattezze di un bambino di circa 5 anni, è alto poco più di un metro, pesa 33 kg ed è dotato di 53 snodi di movimento sia nella parte superiore che in quella inferiore del corpo. È dotato inoltre di telecamere che riproducono la vista, microfoni per ricevere suoni, sensori inerziali per tenersi in equilibrio e anche sensori tattili per interagire con l'ambiente. Inoltre è l'unico robot umanoide al mondo che ha il corpo ricoperto di una pelle artificiale che gli permette di capire come e quando viene toccato e rispondere allo stimolo in maniera adeguata. iCub vede l'ambiente che lo circonda, risponde a comandi vocali semplici, riconosce oggetti e li afferra su richiesta, riesce persino a stare in equilibrio su un piede solo anche se è sollecitato con spinte e tentativi di farlo sbandare. iCub oggi è la piattaforma di robotica umanoide open source più utilizzata al mondo e serve di base anche per la costruzione di robot umanoidi assistenziali, per esempio qui ne vediamo uno alle prese con una bambina autistica, uno psicologo, riabilitativi e anche robot biomedici. certo iCub è piccoletto, però le sue performance sensoriali e cognitive sono notevoli. A dispetto della piccolezza riesce infatti a eseguire 10 elevato 8 operazioni al secondo, cioè 100 milioni di operazioni al minuto secondo. Per fare questo però ha bisogno di centinaia di watt, quindi le sue batterie, per quanto potenti, dopo due ore si scaricano. Un cervello umano invece riesce a fare 10 elevato 15 operazioni al secondo, cioè milioni di miliardi di operazioni, usando solo ed esclusivamente 40 watt di potenza. Perché succede questo? Perché il cervello umano è fatto di miliardi di neuroni e di migliaia di miliardi di sinapsi che galleggiano in un 70%, galleggiano tra virgolette, in un 70% di acqua. Mentre il cervello elettronico di iCub è fatto di wafer di silicio che si scaldano molto facilmente, deve essere perennemente raffreddato, quindi enorme quantità di energia. Per di più, se ci cade sopra anche una sola goccia d'acqua, tutto il sistema si ferma. Come superare questo delicato problema dell'enorme fabbisogno energetico del robot umanoide e allo stesso tempo della sua limitata, cioè nettamente subumana per il momento capacità di elaborazione? La soluzione che sta emergendo proprio in questi due ultimi anni tra gli scienziati dell'Istituto Italiano di Tecnologia e di molti laboratori mondiali che sono connessi ad esso, è quella di creare dei robot umanoidi che attraverso connessioni wireless ad altissima velocità, 5G, 6G, possano collegarsi ad un mega computer che utilizzerà il cloud per conservare tutte le informazioni e le cose via via imparate dai robot e così, in questo modo, ciascun robot potrà fare l'upload e il download delle proprie esperienze. Insomma, detto in poche parole, mentre noi umani abbiamo una memoria e un'intelligenza individuale, ciascuno di noi ne ha una propria, i robot umanoidi molto probabilmente avranno in futuro, una volta superati gli ostacoli tecnici che ancora si frappongono, un'intelligenza unica e condivisa. Sarà gestita molto probabilmente da colossali mega computer come ad esempio il giapponese Fugaku, che oggi è, se non il primo, sicuramente il secondo dei mega computer mondiali, che è in grado di svolgere la spaventoso numero di 442 quadrilioni di operazioni al secondo e questa mente generale sarà condivisa nel cloud con tutti i robot umanoidi che ad essa saranno collegati via internet ad altissima velocità. E qui si pongono davvero grossissimi problemi di regolazione e di etica di queste macchine pensanti. Per esempio, il giorno in cui noi avremo dei robot umanoidi abbastanza sofisticati collegati wireless a computer potentissimi, con quali regole verrà gestita questa intelligenza globale di queste macchine? Chi avrà la gestione dell'archivio globale dei dati trasmessi a queste macchine che si troverà nel cloud? Chi, insomma, in definitiva, è come gestirà questo smisurato e altamente complesso potenziale? Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata. Grazie. Grazie.